Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di banane. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono burro morbido, uova, zucchero di canna, banane, farina, lievito, zucchero semolato, scorza di limone, latte, maraschino e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 100 g di burro morbido, lo zucchero di canna e 20 g di maraschino ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità a 4. Distribuiamo il composto in una teglia rivestita con carta da forno. Abbiamo distribuito il composto di burro in una tortiera di 28 x 18 cm e adesso prepareremo la torta. Mettere nel boccale lo zucchero semolato e la scorza di limone ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità a 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la vanillina e le uova ed azionare il bimbi per 6 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungeremo la farina, il latte, il maraschino e azioniamo il bimbi per 50 secondi. a velocità 5. Aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Componiamo adesso la torta. Adagiamo sul fondo le banane. Versiamo il composto sulle banane. cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 30-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo e rigirarla su un piatto da portata. torta di banane. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!